La terapia del lupus eritematoso sistemico ha fatto dei grandi passi in avanti negli ultimi anni. Sono stati resi disponibili nuovi farmaci, uno in particolare che è un farmaco biologico, ma tante novità sono in arrivo più o meno imminente ed è proprio su questi farmaci che appunto è stata fatta una bellissima carellata qui a Bologna nel corso di Rewind, un evento importante per la reumatologia italiana da uno dei massimi esperti italiani di lupus, dal professore Andrea Doria. Buongiorno professore. Buongiorno, buongiorno a lei, grazie. Allora, lei ha parlato un po' delle novità principali che stanno arrivando. Incomincerei dalla nifrolumab, che cos'è questo farmaco, come funziona e che dati abbiamo? Ma la nifrolumab è un anticorpo monoclonale diretto verso il recettore dell'interferon di tipo primo e quindi blocca tutti gli interferoni di tipo primo e non solo l'interferon alfa e noi sappiamo che il sistema dell'interferon è largamente coinvolto nella patogenesi della malattia, quindi questo è un farmaco molto promettente che ha dato dei risultati soddisfacenti nei trial clinici che sono stati fatti. In effetti è un farmaco che è già stato approvato dall'FDA e adesso siamo in attesa dell'approvazione dell'EMA. Sembra funzionare particolarmente bene soprattutto nelle manifestazioni cutanee della malattia, ma non solo, ma particolarmente bene in quelle, quindi è sicuramente un'arma in più che potremmo avere nel nostro armamentario nel prossimo futuro, nei prossimi mesi diciamo. Come si somministra? Ci somministra per via endovenosa, va bene, una volta al mese. La dose che è stata studiata, che si è dimostrata efficace, è quella di 300 mg al giorno, al mese appunto. Senti, il secondo farmaco di cui ha parlato è la boclosporina. Anche qui di cosa si tratta e quali evidenze abbiamo? La boclosporina non è un farmaco biotecnologico, è un farmaco di sintesi, è un derivato della ciclosporina A, farmaco che noi abbiamo già utilizzato nel lupus, ma anche in altre malattie autoimmuni, nell'artrite reumatoide anche, però rispetto alla ciclosporina è più potente, è una molecola più stabile, quindi non necessita il monitoraggio terapeutico e anche è meglio tollerato. La boclosporina somministrata in aggiunta alla terapia standard, ma si è dimostrata più efficace della terapia standard nell'indurre la remissione dell'agglomeronefrite lupica. Quindi questo è un altro elemento, anche la boclosporina è già stata approvata dall'FDA americana, siamo in attesa del giudizio dell'EMA, ma siamo molto fiduciosi e potrebbe essere un altro farmaco nel nostro armamentario nei prossimi mesi. L'altro farmaco di cui ho parlato è un farmaco già noto, già in terapia, che è il Belimumab, però per un'indicazione nuova, fino ad oggi ancora non riconosciuta, che è quella della nefrite lupica, che è la complicanza forse più grave del lupus. Sì, il Belimumab è già noto, quindi già approvato nel 2011 dall'FDA per il lupus in generale, è stato approvato più recentemente, nel dicembre del 2020, anche per la nefrite lupica e nel maggio del 2021 è stato approvato anche dall'EMA, sempre per la nefrite lupica. Cioè il concetto è terapia, anche questa, add-on, cioè in aggiunta alla terapia standard, fin dall'inizio della malattia renale, va bene, dà un vantaggio rispetto alla terapia standard da sola, quindi un'altra arma, va bene, nel nostro armamentario terapeutico, che può essere molto utile ai nostri pazienti. Ecco, l'altro farmaco è l'obinutuzumab, un farmaco appunto studiato per l'oncologia, ma che può trovare uno spazio importante nel lupus. Sì, questo è un farmaco non ancora approvato, nel senso che ha finito una fase 2 e adesso è in corso una fase 3. È un anti-CD20, quindi simile al rituximab, però è umanizzato e non chimerico come il rituximab, quindi questo dà certamente un vantaggio e ha anche delle caratteristiche per cui dà una deplezione maggiore rispetto al rituximab, cioè depleta le cellule B, va bene, in maniera più estesa rispetto al rituximab, quindi anche questo un vantaggio, speriamo anche nella fase 3 e quindi speriamo di poter avere questo farmaco a nostra disposizione in un prossimo futuro. Ecco, l'ultima novità, non certo in arrivo ma comunque in fase di studio, mi ha molto colpito, si tratta delle cellule CAR-T di cui si sta parlando tanto in questi giorni, in questi mesi per l'impiego in alcune patologie ematologiche di cui stanno rivoluzionando appunto la terapia. Ecco, può avere un senso utilizzarlo anche nei pazienti con lupus? Ma direi di sì, questo è un approccio terapeutico veramente innovativo ed è veramente entusiasmante per noi medici che potrebbe aprire dei grandi orizzonti per i nostri pazienti, cioè sono delle cellule T, quindi delle cellule naturali che noi abbiamo, che vengono estratte dal corpo del paziente, vengono ingegnerizzate in cui viene inserito, diciamo così, un recettore che può colpire dei bersagli specifici. Per esempio esistono quelle più utilizzate, sono le cellule CAR-T dirette verso il CD19, va bene, che quindi deplete i linfociti B, ma più interessante ancora è poter esprimere sulla superficie dei linfociti B dei recettori per, diciamo così, linfociti B patogenetici, come quelli che producono gli anticorpi antigenerativo. Quindi una deplezione dei linfociti patogenetici e non di tutti i linfociti, quindi in maniera indistinta. Quindi una terapia selettiva, secondo me, di grandissimo interesse. Siete, professore, in attesa di questi farmaci il cui arrivo è più o meno imminente per alcuni, soprattutto gli ultimi, è ancora del tutto, diciamo così, ipotetico. Ecco, in generale, vedendo quello che avete a disposizione oggi, com'è cambiata la terapia del lupus? Cos'è cambiato per i pazienti? Io credo che quello che è cambiato e sta cambiando, va bene, è il fatto che poi non è una cosa così diversa da quanto magari non si faceva già in passato, ma adesso lo si fa in maniera più, molto più precisa. È la terapia di combinazione, cioè si è visto che combinando la terapia tradizionale con questi farmaci biotecnologici si riesce a ottenere un effetto maggiore sull'attività di malattia, quindi si riesce a raggiungere più facilmente la remissione o la bassa attività di malattia impiegando una dose minore di cortisone. Questo è fondamentale perché sappiamo che il cortisone ha un effetto sul danno cumulativo che è, diciamo così, prognosticamente sfavorevole. Insomma, i pazienti stanno meglio? I pazienti stanno decisamente meglio, certo.